E alle parti, sei anni di progetto Opsi, sei anni di attività con i ragazzi e i loro genitori, una bella soddisfazione? Sì, è una soddisfazione immensa perché riuscire a coinvolgere insegnanti, scuole, bambini, genitori, volontari è il massimo che una società può dare, Carriglia, per questo è in grande forma. Tra l'altro quest'anno è aperto anche San Giovanni, bambini? Sì, quest'anno abbiamo anche delle scuole di San Giovanni che ci hanno dato la possibilità, l'onore e il piacere di essere con loro e ci ha fatto molto piacere.